Back in ETV Ciao amici, benvenuti a Back in ETV Schio Oggi qui con noi, le Loop Garu Buon ascolto 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 meraviglioso che mescolava blues a cantautorato americano a musiche sudamericane e in quest'album suo tratta della parte più oscura degli Stati Uniti che sono le paludi della Louisiana e parla di sta creatura che sono i lupi mannari che in francese e quindi nella influenza francese della Louisiana sono chiamati le Loupes Garou siccome ci è piaciuto questo spirito di narrazione di strati più nascosti della leggenda abbiamo pensato di prendere quel nome e iniziare anche noi un percorso che fosse fatto di lupi mannari e racconti simili chiaramente anche musicalmente quindi tenendo un suono bello sporcaccione bello lo-fi a bassa qualità proprio per dare quel tipo di taglio quel tipo di suono quindi le lupi garù sono arrivati da questa cosa qua fantastico, parlami del vostro album sì, abbiamo un nuovo album che contiene questa volta inediti brani scritti da Simone Chivilo e da me dove manteniamo l'identità acustica quindi quasi da strada di un duo e trattiamo in maniera più personale con argomenti personali una serie di brani che sono 11 brani dove esploriamo dei suoni un po' più oscuri un po' più particolari rispetto a quello che ci si aspetterebbe da un duo di estrazione semi-blues se vogliamo vista la provenienza già del nome Louisiana, New Orleans, eccetera quindi questo è l'album che abbiamo pubblicato è abbastanza interessante visti i suoni e le idee meno scontate possibili wow e in rete dove vi possiamo trovare? allora in rete siamo su facebook facebook.com Le Loop Garou che si scrive Les Lopes Garous Lo-Fi tutto attaccato e su internet sul nostro sito leloopgarou.com perfetto in bocca al lupo lupi qui Balconetv è tutto un caro saluto a presto back in ETV